Sondrio, ci sta per concludere la manifestazione in solidarietà con le manifestazioni in tutta Italia, soprattutto con Trieste, Trieste chiama, sogno risponde. È stato un sabato ricco di emozioni con le testimonianze di alcuni vantellinesi che sono scesi a Trieste e anche a Genova, abbiamo fatto un'intervista che vi proponiamo poi nel servizio. Adesso dopo il rapporto di gente come noi non molla mai, i manifestanti hanno sceso delle candele, dei lumini e chi non aveva anche delle usci dei cellulari. Serata molto intensa, molto emozionante che volge al termine, ma non volgono sicuramente al termine le proteste no green pass. Sondrio, Giovanni Salici, notizie tra le ribe, al prossimo servizio. E questo è soltanto il lancio del servizio completo, della videonews completa con le interviste alle persone che sono andate a Trieste e a Genova con le loro testimonianze. Rimanete quindi con noi, tra qualche giorno potrete ascoltare e vedere la videonews completa. Giovanni Salici, notizie tra le ribe. Grazie. 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 Grazie.